Le materie di studio all'interno della scuola di ballo sono molteplici. Fondamentali sono ovviamente la danza classico-accademica e moderno-contemporanea, alla quale si affiancano altre materie pratiche come il passo a due, il repertorio, la punta per le ragazze e la tecnica maschile per i ragazzi, la fisioprevenzione e la preparazione atletica. A queste materie pratiche, però, Accademia affianca anche un approfondimento teorico dei principali argomenti di interesse per la formazione di un ballerino, che sono la storia della danza, la storia della musica e la teoria e pratica musicale per la danza. Affiancata allo studio della tecnica classico-accademica e moderno-contemporanea, è molto intensa l'attività artistica, che è parte integrante della formazione dei nostri allievi. Fin dai primi corsi, di fatti, i ragazzi più meritevoli vengono chiamati a prendere parte alle principali produzioni in cartellone scaligero e a calcare i palcoscenici più importanti, sia sul suolo italiano che estero. Grazie all'intensa attività artistica della scuola di ballo, i ragazzi hanno la grandissima opportunità di essere affiancati dai principali coreografi italiani e stranieri, contemporanei, ma anche di studiare il repertorio ballettistico della storia della danza. Questo fa sì che i nostri allievi abbiano avuto in passato e avranno sicuramente anche in futuro la possibilità di interpretare coreografie create ad hoc per loro, oppure di interpretare dei ruoli del repertorio del balletto classico e moderno-contemporaneo. Grazie a tutti.